Per prendere le prove con il terzo ed ultimo concorrente di questo pomeriggio vi comunico che sabato 14 settembre alle ore 16 presso la sala comunale d'ora bassi di via Garivaldi 7 saranno presentati dai rispettivi autori e curatori Flavio Quali, Marco Fornaciari e Lorenzo Quali, Lorenzo Sbaffi e Elena Previdi spartiti e libri editi grazie al contributo del Ministero per Imedi e Attività Culturali dall'Associazione Culturale Maestro Rodolfo Lipitzer con le case editrici Sillave, Ricordi e le nuove edizioni della Laguna alla presenza tra gli altri dei sette membri della giuria del 38esimo concorso internazionale di violino premio Rodolfo Lipitzer Il terzo concorrente di oggi è Salvatore Di Lorenzo, 16 anni, Italia eseguirà nell'ordine di Niccolò Paganini il capriccio numero 10 dall'Opera 1 di Niccolò Paganini, nel corpio non mi sento di Lorenzo Sbaffi, capriccio fantasia numero 1 per violino e di Sergei Prokofiev, sonata numero 2 in Re Maggiore, opera 94b vi ricordo l'appuntamento di questa sera del 20 e 30 vi ringrazio per la gettile attenzione e vi auguro buon ascolto grazie a tutti 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 grazie a tutti